Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Buona settimana a tutti, siamo pronti a riniziare la grande. E io, devo dire, ho riniziato ieri sera, anzi ieri notte. Prima di andare a dormire ho visto un video e dopo qualche risata è arrivata una parte che mi ha fatto molto riflettere. L'ho condivisa già con voi stamattina sul nostro canale Telegram, telegram.me slash strategia digitale. E dopo averla condivisa mi sono detto, ma perché non parlare di questo? Avevo già segnato che stamattina volevo parlare di quelli che sono secondo me i tre pilastri del marketing digitale. E questo video, questo messaggio che ho mandato sul canale Telegram fa esattamente il match. Si incontra perfettamente con questo concetto, con questi tre pilastri. Aiuta a capire, a entrare nelle dimensioni, in questa dimensione tracciata da queste tre coordinate che secondo me sono fondamentali per qualsiasi iniziativa di marketing digitale. Se non hai capito questa, te la posso dire proprio così terra a terra, non hai capito niente del marketing digitale. Ecco perché non sta funzionando. E allora, prima di condividere con voi questa clip creata da Matteo Bruno, canesecco, al secolo canesecco, che è un videomaker, un professionista del video, che ha creato un'agenzia qui a Roma, si chiama Slim Dogs. Ve l'ho consigliata varie volte perché sono dei ragazzi incredibili, veramente eccezionali. Prima di sentire questa clip voglio ringraziare tutti coloro che mi mandano domande, messaggi, i produttori. Insomma, dopo li nominerò uno a uno, ma nel frattempo vi ricordo che il luogo dove andare e iscrivervi a Strategia Digitale, il luogo dove mandare i vostri amici, il luogo dove inviare le vostre domande è strategiadigitale.info. Andate lì e trovate tutti i linketti del caso. E ora, bando alle ciance, è arrivato il momento di ascoltare la viva esperienza di Matteo Bruno e scoprire i tre principi fondamentali del marketing digitale. Quando ho iniziato a fare questi video della settimana li vedevo semplicemente come una sfida personale perché da videomaker non mi ero mai trovato a confrontarmi con questa tipologia di video. Nel tempo mi rendo conto che stia diventando un qualcosa che va oltre i semplici video. Si sta trasformando il nostro rapporto, che prima era unilaterale, cioè io faccio i video, voi li vedete. Adesso invece sta diventando una sorta di scambio. Il fatto che da questi video una persona abbia deciso di investire del proprio tempo per fare una torta o per andare a comprare la pasta al supermercato e poi spedircela mi fa capire che questa cosa che abbiamo sia veramente fica. Quindi a questo punto io vi dico grazie di cuore perché è proprio bello tutto ciò. Entriamo nel vivo della nostra puntata. Avete ascoltato questo messaggio che è la parte finale di un video che ho appunto condiviso sul nostro canale Telegram. Questo video è in sostanza un riassunto, un video riassunto della settimana che Matteo fa rispetto alla sua attività professionale, alla sua vita e alla sua attività professionale in maniera analoga a quello che fino a pochissimo tempo fa, fino a qualche mese fa, ha fatto anche Casey Neistat. Non so se lo conoscete, vi metto il link in descrizione. È, penso sia uno dei videomaker più famosi al mondo e ha iniziato un paio di anni fa a raccontare con un vlog, con un videoblog quotidiano, la sua vita professionale e personale ogni giorno. Bene, Matteo ha fatto qualcosa di analogo, sta facendo qualcosa di analogo ed è stato spinto dalla stessa motivazione di Casey, quella di sfidarsi, quello di entrare come videomaker, come professionista del video in una dimensione nuova, quella in cui tu non sei solo dietro alla telecamera ma sei anche davanti e ti racconti, stavo dicendo sei regista ma non sei neanche regista. Allora, diciamo che dai accesso alla telecamera, dai accesso a coloro che ti vedono attraverso il video a una dimensione più personale, più intima della tua esistenza personale e professionale per consentirgli di entrare dentro quella che è il tuo contesto e al tempo stesso consentire a te di uscire attraverso la pratica dello storytelling. Allora, partiamo da questa testimonianza personale. Matteo faceva riferimento quando diceva vi siete fermati a fare delle torte, a comprare la pasta, questo lo vedete nel video perché gli mandano la stessa settimana due pacchi, uno un pacco pieno di pacchi di pasta e un altro un pacco con due torte. Ma voglio dire, questa è un'esperienza che io anche personalmente vivo e che ho visto ricorrente in tutti coloro hanno deciso di fare, di utilizzare il brand storytelling il personal storytelling, chiamiamolo come vi pare, che hanno deciso di raccontarsi in maniera autentica che hanno deciso di creare dei contenuti di valore per le altre persone e hanno trovato dietro questa cosa che potremmo etichettare come content marketing come appunto brand storytelling, video storytelling hanno trovato qualcosa di molto più grande rispetto a quello che si aspettavano rispetto a quello che potevano solo immaginare. Allora, quali sono secondo me i pilastri del content il pilastri del marketing digitale? Il primo pilastro è il brand, anzi vi dico tutti e tre sono brand, contenuti e relazioni. Cominciamo dal brand, che cos'è il brand? Abbiamo parlato anche in passato di brand, di personal brand, di come fare e iniziare a definire il tuo brand abbiamo parlato di brand positioning, del posizionamento del tuo brand come la risposta a 5 domande chi sei, che cosa fai, per chi lo fai, come lo fai e perché lo fai questo però è un esercizio, cioè una roba diciamo scolastica è il modo per iniziare a prendere consapevolezza di questa cosa perché in realtà, questo lo vedo anche quando durante i corsi faccio lavorare i partecipanti alla scoperta e alla definizione del proprio personal brand ecco, ho detto giusto scoperta, alla scoperta perché è qualcosa di più profondo è la ricerca, è la scoperta di una identità personale, di una identità professionale di uno scopo, della direzione verso quale è orientata la tua vita personale e professionale il motivo per cui, perché? Perché stai qua? Perché fai questo lavoro? Perché sei capace di fare queste cose? che cosa è pensato per te? Per chi devi fare queste cose? A chi sei orientato? A chi servi? qual è la tua funzione? Il tuo scopo? La tua mission? Chiamala come te pare e allora, cosa succede quando si comincia a lavorare così? su un primo livello, quando cominci a parlare di personal brand sembra che devi creare una specie di avatar, di pupazzetto, di immagine di te stesso più pulita e rifinita possibile, che non dice le parolacce che, come dire, offre il massimo della qualità al minimo del prezzo ecco, c'è l'idea che sia una specie di facsimile il personal brand mentre, dopo un po', lavorandoci, lavorandoci, lavorandoci i partecipanti ai corsi, la mia esperienza dal vivo è quella con partecipanti a corsi e persone che ho guidato in un percorso di coaching, di consulenza quello che ho visto è che a un certo punto si dischiude un uovo si dischiude quell'uovo che ognuno di noi ha creato per difendere la nostra parte più liquida, più fluida dalla vulnerabilità, dagli attacchi dell'esterno, dal cinismo dall'idea che ti devi piegare nella vita e fare qualcosa che non ti piace che il lavoro te lo devi fandare bene che te devi andare a guadagnare la pagnotta in qualche modo e poi il tuo cuore lo metti in qualcos'altro si comincia a crepare quest'uovo si dischiude ed esce fuori qualcosa di molto più bello la parte veramente nutriente dell'uovo facciamo questa metafora culinaria la parte sostanziosa perché nessuno di noi se magna la buccia dell'uovo abbiamo bisogno di rompere l'uovo e far uscire l'interno far uscire il torno dell'albume per poter mangiare, cucinare, fare delle cose fantastiche e allora esce questa parte più interna la parte sostanziosa, la parte nutriente di noi stessi e quando esce, vi dico molte volte le persone che ho davanti hanno le lacrime agli occhi perché dicono ma io tutta la vita ho lavorato per reprimere questa parte di me stesso per non far vedere agli altri che sono un appassionato di questo per cercare di rendermi asettico e ora tu Giulio mi stai dicendo che proprio quelle mie caratteristiche quel mio essere così, in questo modo è bello? mi stai dicendo che questo è il modo in cui posso raccontarmi agli altri il modo in cui mi posso differenziare dalla concorrenza, dagli altri che fanno la stessa cosa che faccio io il modo in cui mi posso far ricordare dalle persone che mi incontrano e sono sconvolti da questo eppure funziona non mi dimenticherò mai un corso in particolare ho fatto che si è trasformato in una specie di seduta in psicanalisi qualche anno fa dove ognuno dei partecipanti era tesissimo all'inizio di cui ma perché siete così tesi? piano piano si sono rilassati ed è uscito fuori che quello lì che faceva il responsabile dell'amministrazione era un padito di videogiochi quell'altra aveva voluto sempre studiare recitazione invece faceva l'avvocato e uno a uno è uscito fuori un'identità particolare bellissima quello che realmente potevano raccontare la cosa particolare è stata che quando andavamo a vedere le loro foto sui social media usciva sempre gli mostravo la loro foto gli dicevo chi è questo? è un avvocato o è un appassionato di teatro? e usciva fuori l'appassionato di teatro usciva fuori l'appassionato di recitazione perché? perché quello che è dentro di noi quelle bellissime cose che nella vita magari non sono cresciute perché non le abbiamo annaffiate stanno lì per uno scopo non dimenticherò mai il mio carissimo amico Vincenzo quando al termine dell'università stavo lì combattuto che farò che non farò lui mi disse guarda se avevo il desiderio io di scrivere al tempo non esisteva neanche la possibilità di creare video e condividerli per cui per me il comunicare era scrivere allora lui mi disse guarda ma se c'è questo desiderio assecondalo poi vedi se le cose funzioneranno continuerai se non funzioneranno farai qualcos'altro l'ho assecondato quel giorno stesso ho accompagnato un altro mio carissimo amico a fare la prova per un master in giornalismo ho fatto così il test quasi per scherzo e poi sono entrato e poi la mia vita ha preso tutta una direzione particolare allora il brand è il centro la tua identità chi sei guardate allo specchio chi sei smetti di raccontare quello che fai la qualità dei tuoi prodotti inizia a raccontare chi sei tu quello in cui credi quello per cui lavori quello che ti fa svegliare la notte quello che ti fa svegliare la mattina quello che non ti manda a letto la notte quello che quello che che per cui i tuoi amici ti chiamano e vogliono da te avere un consiglio ecco prendi quella tua identità definisci l'abbine consapevolezza questo è il primo passo il brand il secondo elemento fondamentale perché dobbiamo partire dal brand perché se non hai questa consapevolezza puoi fare quello che ti pare puoi spendere i miliardi in campagna su facebook non andrai da nessuna parte appena smetterai di immettere benzina in questo sistema si sgonfierà un po' come quando apri le torte che hanno iniziato a lievitare apri il forno la torta si sgonfia esattamente questo succederà il secondo elemento sono i contenuti sono le storie ecco diciamo le storie perché il contenuto sembra un po' un prodotto e invece le storie vivono a prescindere dal canale col quale le racconti le puoi raccontare a voce dal vivo le puoi raccontare con un video come ha fatto Matteo le puoi raccontare con un podcast come sto facendo io le puoi raccontare con un podcast con del testo scritto le puoi raccontare come ti pare le puoi raccontare sui social media attraverso i post le immagini le puoi raccontare con le foto certo lo puoi raccontare su Snapchat non importa come le racconti l'importante sono le storie l'importante è imparare a raccontarsi e questo elemento della sfida che ha citato citato Matteo all'inizio c'è sempre l'ho sentito dire da Casey l'ho sentito dire appunto da Matteo l'ho vissuto io stesso lo sento sempre lo vedo lo vedo nelle persone che aiuto a creare la loro strategia digitale le persone che accompagno in questo percorso di racconto personal di personal storytelling lo vedo sempre c'è una sfida c'è un combattimento da fare è molto duro all'inizio proprio ti sembra che stai facendo solo quello che tutto il resto lo devi lasciare dietro è un po' come quando ti nasce un figlio che pensi solo a quello e tutto il resto passa in secondo piano è esattamente così ma poi con il tempo entra questo nella dinamica della vita normale ti dà soddisfazione io ho accompagnato le mie figlie a scuola ora sono con voi a parlare di questi temi dopo prendo dovrò andare dal barbiere a tagliarmi i capelli cioè integrato completamente nella vita quotidiana ecco queste storie che sono una sfida e che piacciono anche come sfida Kisinaestat ha smesso di raccontare le proprie storie attraverso il vlog quando ha detto per me non è più una sfida ormai è diventato totalmente automatico e voglio invece andare alla ricerca di nuove sfide è una sfida ed è anche uno strumento per entrare nella dimensione dell'autenticità ve ne ho parlato la scorsa settimana varie volte quando vi ho raccontato dell'evento che ci sarà a Milano di Martin Lindstrom ecco l'approccio di Martin Lindstrom è quello di trovare una coerenza tra il brand e la reale identità delle aziende dei brand per i quali lavora esattamente questo è anche per te è raccontare le storie che non siano storie che ti rappresentano in maniera così come potremmo dire posticcia in maniera ricercatamente falsa ecco sta uscendo un attimo dalla riunione con l'amministratore delegato dell'azienda X e Pilon Z sono molto occupato magari ti faccio chiamare dalla mia assistente ecco questa volontà di rappresentarsi di raccontare cosa stai facendo dove andrai chi incontrerai no raccontare quello la risonanza che la realtà ha in te realmente raccontare quello che ti succede realmente raccontare ma non per far fare agli altri i cavoli tuoi non è un un aprirsi al voyerismo altrui è un essere autentico essere sempre lo stesso sia che tu stia facendo consulenza alla grandissima azienda sia che tu stia davanti al barbecue a fare le salsicce sono rimasto colpito molte volte quando incontro le persone no io vi dico sempre ragazzi se volete venitemi a trovare ci prendiamo un caffè insieme quando sono al tavolo con persone che mi hanno magari ascoltato per anni sul podcast mi dicono ah ma tu sei realmente come sul podcast ma perché che devo fare mi devo travestire cioè noi siamo sempre noi siamo noi sul lavoro siamo noi nella famiglia siamo noi quando siamo da soli siamo sempre noi allora coltivare questa autenticità come un modo di non essere schizofrenici di non avere un bipolarismo tra vita e lavoro ci aiuta anche a vivere in un unico stream vita e lavoro come qualcosa di bellissimo come un viaggio come un'esplorazione come qualcosa di piacevole come qualcosa magari di sfidante ma di autentico e diventa tutto questo un'attitudine diventa un'attitudine l'altro giorno parlavo con un mio compagno di mastermind il quale mi ha detto che ha comprato dei nuovi maglioni delle nuove maglie perché si è stufato di vedersi nei video sempre con le stesse ecco allora questo è un esempio scherzoso no? però l'idea è proprio questa quando tu cominci a raccontarti ti accorgi a volte di quanto sono pallose alcune storie di quanto stai raccontando sempre la stessa storia di quanto va a finire sempre nello stesso modo il tuo eroe che saresti tu ricade sempre negli stessi errore e raccontandoti sei in grado di modificare questo quadro che stai dipingendo e dici ma qua ci metto un po' più di luce qua questo personaggio lo elimino questo cioè fai pulizia apri le finestre dell'anima apri le finestre della tua vita fai entrare un po' d'aria fresca quest'aria bella frizzante primaverile che c'è in questi giorni fai entrare la luce fai entrare l'aria fai un po' di pulizia perché ti rendi conto raccontandoti di quello della piega che sta prendendo la tua vita molte volte hai da una parte una rappresentazione di quello che penseresti che dovrebbe essere la tua vita e dall'altra parte della tua vita ecco raccontarla di giorno in giorno ti aiuta questo lo dico sia per la vita personale ma soprattutto a noi ci interessa soprattutto per la vita professionale ti aiuta a vedere chi sei realmente e a correggere a indirizzare a correggere la rotta del tuo percorso professionale verso la direzione alla quale aspiri il terzo principio il terzo pilastro del marketing digitale della comunicazione sono secondo me le relazioni le relazioni anche qua la clip che abbiamo ascoltato di Matteo è particolarmente interessante ci dirige in maniera particolare verso la scoperta di qualcosa di unico il passaggio dall'io io 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 faccio io dico io penso al tu no io ti posso aiutare tu hai bisogno di questo tu mi chiedi quest'altra cosa è un passaggio che c'è sempre ed è fantastico l'ho sperimentato tantissime volte no dai vi ho sempre raccontato come questo podcast non ci sarebbe se tu che stai ascoltando se uno di voi che sta ascoltando non fosse venuto su iTunes a lasciare una recensione e a dire guarda che un podcast che ci lancia tre puntate quattro cinque dieci puntate bellissime poi sparisce è un po' un autogol non va bene potete trovare questa recensione andando su iTunes andando a vedere valutazioni recensioni mettendo le più critiche e verrà fuori quell'unica recensione con due stellette dove questa persona quella recensione con due stellette qualcun altro mi ha aiutato mi ha dato consapevolezza di quello che stavo facendo o meglio di quello che non stavo facendo e mi ha incoraggiato a ritornare al podcast due anni fa ecco questo passaggio dall'io al tu che è lo stesso che c'è stato quando abbiamo iniziato l'iniziativa di crowdfunding quando ho pensato ma scusa ma perché se dietro strategia digitale ci sono delle persone appassionate degli ascoltatori che non si perdono una puntata che non si alzano dal letto se non ascolta la strategia digitale anzi scusatemi perché oggi vi ho fatto alzare tardi allora condividiamo questo progetto diamo anche a loro la possibilità di partecipare realmente facciamolo insieme perché dobbiamo sempre stare in quest'ottica del io lo faccio e tu mi ascolti facciamolo insieme la stessa cosa di quando ho cominciato a rispondere alle vostre domande avete delle domande concrete ma che sto qua a fare a parlare del ciurlo ditemi quello che vi serve io vi aiuto a risolvere i vostri dubbi a vedere in maniera diversa quei problemi professionali quei problemi di strategia digitale quei problemi di business online che non riuscite a risolvere e quindi esattamente questo il passaggio dall'io al tu e poi bellissimo quando ho cominciato mi ricordo ancora quando ho cominciato a ricevere i primi pacchi da parte vostra l'olio di Lorenzo Polacco produttore di Olio Poldo che ha cominciato a mandarmi degli oli fantastici ormai siamo diventati dipendenti dai suoi oli i regali pillolitecnologia.it che mi ha mandato il tracker GPS il Shemrush che mi ha mandato i biscottini di zenzero con l'aperol per cui siamo stati sotto le feste sempre a bere spritz insomma ognuno di voi ogni singolo regalo che ho tutti qua intorno a me quelli albero che non erano dei peribili e non mi sono già mangiato sono diventati dei piccoli trofei quelli sono i trofei non me ne frega niente del trofeo del festival del marketing della della coccardina da mettere al petto quelli sono i veri trofei sono i trofei il Massimiliano Berto che mi ha mandato il gioco da tavolo per il quale ha fatto il video promozionale ora piano piano che ci penso comincio a ricordarmeli nuovamente questi sono i trofei quello che testimoniano la tua reale utilità per gli altri allora non si tratta di focalizzarti su te stesso ma si tratta di una volta aver capito chi sei professionalmente e di averlo cominciato a raccontare di cominciare a raccontare anche le storie degli altri di cominciare ad aiutare gli altri di focalizzarti su quello che puoi fare tu per loro e di passare dal virtuale al reale di incontrare queste persone a me mi fanno ridere ogni tanto questi che fanno i guru ascoltatemi tutti poi quando li incontri dal vivo fanno gli schizzignosi mentre è bellissimo quando incontri una persona che ogni giorno conosci e segui attraverso i video i contenuti e poi la incontri ed è bellissimo incontrarla perché ci può essere subito un rapporto personale si può andare subito al sodo ecco questo è è passare riuscire a passare dal virtuale al reale senza perdere di umanità senza perdere di intensità senza perdere quella reale intenzione di fare questo per gli altri non semplicemente io lo faccio poi voi se mi guardate mi guardate se non mi guardate niente e no è troppo facile così e allora perché è così bello questo passaggio ultimo questo passaggio delle relazioni che poi vive sui social media i social media servono a questo ragazzi mica a rompere le scatole agli altri a mandare le vostre pubblicità sulle bachechine attraverso la vostra pagina facebook i social media servono per tenersi in contatto per passare dalla discussione generale come su snapchat che si passa dalle storie con un movimento del dito alla conversazione particolare alla conversazione one to one esattamente a questo servono non ad altro non a fare le vetrine di noi stessi o del nostro brand o della nostra azienda perché è così bello e perché Matteo ha concluso dicendo proprio è bellissimo questo è figo wow voglio continuare ci vediamo lunedì perché ognuno di noi è un seme ogni persona che incontriamo è un seme non sappiamo mai cosa c'è dentro se c'è dentro una pianta di fagioli o se c'è una quercia e anche il seme più piccolo può nascondere qualcosa di incredibile anzi devo dire la mia esperienza è che ogni singolo seme poi genera degli alberi pieni di fronde pieni di foglie pieni di frutti proprio sabato parlavo con mia moglie ho fatto un colloquio per fare avviare un progetto molto bello qui con la regione Lazio e mi diceva ma come hai conosciuto questi guarda gli ho detto sono andato a fare un incontro di formazione perché mi aveva chiamato questa persona che era in contatto con un'altra persona che ascolta il mio podcast ho incontrato e poi c'è stata questa catena quindi vedete c'è un valore che non è solo un valore perché qua sembra magari uno potrebbe pensare uè Gaudiano ma la stiamo facendo tutta così un po' un po' fricchettona noi dobbiamo fare il business guarda il valore non è che solo un valore o solo spirituale o solo materiale il valore è sempre valore a 360 gradi quindi se ti riesco a portare se le relazioni ti portano un valore umano ti portano anche un valore professionale un valore proprio di business vero è proprio quella quella maiuscola sostituibile dalla S di Dollero è esattamente questo è è tutta un'unica cosa no? allora se tu cerchi solo quello non lo troverai mai se tu invece ti rendi conto che il vero valore sono le persone gli esseri umani come tu sei una persona con una storia capace potenzialmente di tutto ogni singola persona che incontri anche la più quella che ti sembra più sfigatissima con l'occhio viziato di giudicare gli altri per la prima impressione quella persona lì magari è un brutto seme di un bellissimo albero e siamo arrivati alla fine della nostra puntata ragazzi oggi mi sono lasciato andare tipo stream of consciousness ma valeva la pena vale la pena perché ci siamo parlati ci siamo raccontati quali sono questi tre pilastri del marketing digitale il brand i contenuti e le relazioni e vi auguro di fare anche voi questa scoperta di entrare anche voi in un percorso anzi se già avete iniziato un po' a lottare magari siete professionisti imprenditori avete cominciato a sperimentare qualche cosa dal punto di vista del racconto del vostro brand della creazione di contenuti del racconto di storie ma ci avete delle difficoltà beh fatevi accompagnare da altri compagni di viaggio sapete che io personalmente partecipo a questo mastermind questo digital mastermind e se avete un progetto qualcosa che state portando avanti e non avete bisogno di guru ma di compagni di viaggio andategli a dare un'occhiata chissà che magari dopo che inviate la richiesta la vostra candidatura possiate anche voi essere accettati all'interno di questo mastermind che veramente ci dà un po' tutti una marcia in più e allora umediaweb.com slash digital mastermind vi metto anche il link nel noto dell'episodio e il posto dove andare per scoprire come funziona e voglio ringraziare Miami Beach Flow chi è uno di voi ascoltatori che ha lasciato una recensione su iTunes titolata il podcast di cui non potrai mai fare a meno ho iniziato da poco ad ascoltare i podcast di Giulio e ho capito che da adesso in poi non potrò più farne a meno è un piacere ascoltare contenuti interessanti e interviste ben fatte felice di aver scoperto strategia digitale ascoltare per credere grazie mille fatti riconoscere chi sei facci capire chi è questo Miami Beach Flow questo nickname misterioso e oltre a ringraziare lui mi è d'obbligo ringraziare anche i produttori coloro che sostengono concretamente di mese in mese con un contributo economico strategia digitale chi sono i primi miei compagni di mastermind Fabrizio Guidi Marzia Tomassin Francesca Traverso Paolo Pugni Otra Bertolone Daniele Besana e poi Roberto Pagliarini Roberta Andreoni Beatrice Biasuzzi Nicolo Ravanelli Federico Izzi Davide Brenna Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Alessio Cassarolli Fulvio Giulita Agata Amato Franco Nicosia Jacopo Olivia Lorenzo Polacco Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Enrico Vallengo Silvia Zeta Mariano Lampis Gianluca Gorlani Mauro Arizzo Lorenzo Mari Rodolfo Monacelli Max Saggia Pillolitecnologia.it Marco Bazzo Daniele Risi e tutti gli altri finanziatori questi anche con solo un dollaro si sono accaparrati la possibilità di partecipare a questo esperimento a questo progetto di divulgazione digitale sperando di dare un po' a tutti una migliore strategia una strategia più solida per non perdersi nel mare del web fate anche voi il vostro finanziamento andando su strategiadigitale.info così trovate tutto anche il video tutorial su come si fa il finanziamento potete farlo in maniera immediata io vi ringrazio di cuore ringrazio Sara Veltrico attrice del programma il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille buon lunedì e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano a cura di Giulio Gaudiano